Sindrome nefrosica. La sindrome nefrosica è un insieme di quattro condizioni principali. Proteinuria, caratterizzata da più di 3,5 grammi giornalieri. Ho rapporto proteinuria-chatenuria sopra 2 su urine spot. Ipoprotidemia, con albuminemia sotto i 2,5, edemi e dislipidemia. Quindi il colesterolo sarà sopra ai 200 mg su 10 litro. Dal punto di vista epidemiologico si manifesta principalmente sotto ai 16 anni, con 1 o 3 casi su 100.000. E se non trattata correttamente può essere anche fatale. In particolare troviamo degli edemi nella zona perioculare, quindi visualizzabili soprattutto al mattino e da porre in diagnosi differenziale con l'allergia. A livello addominale, perché possiamo riscontrare il versamento scidico. A livello degli arti inferiori, quindi il segno della fovea sul dorso del piede. E poi a livello perineale, nei maschi e nello scroto, nelle femmine e nei grandi labbra. Inoltre, quest'ordine della sede dell'edema rispecchia un ordine cronologico. Quindi prima appare a livello dell'occhio, poi l'addome, poi gli arti inferiori e poi il perineo. Clinicamente la causa può essere varia e quindi comunque diciamo che dipende un po' anche se si manifesta in età adulta o da bambino. E poi il quadro comune è caratterizzato comunque da immaturia, proteinuria, edemi, ipertensione. Quindi ci sono comunque delle caratteristiche generiche e poi a seconda della malattia o comunque della condizione ci indirizziamo un po' a fare le diagnosi. Principalmente dal punto di vista ziologico, nell'adulto sarà secondaria. Quindi dovuta, per esempio, a ipertensione arteriosa, diabete o laterosclerosi. Mentre nel bambino sono per lo più idiopatiche o congenite, più raramente forme secondarie. Quindi le forme primarie, tra queste riscontriamo per esempio la sindrome nefrosica, lesioni minime. Oppure, come vedete sotto, nell'incidenza nelle varie forme, nei primi 15 anni di vita, abbiamo quindi una glomerosclerosi focale segmentale, quindi nel 50% dei casi rappresenta una causa di sindrome nefrosica, oppure quella a lesioni minime, soprattutto nei primi anni. Mentre quelle secondarie possono essere glomerulone e fritte secondarie, il LES, la porpora di Schoen, la NENOC e l'HIV. Dal punto di vista anatomopatologico, principalmente dobbiamo dire, e fisiopatologico, che troveremo un'alterazione della parete del glomerulo capillare, dell'endotelio e anche della membrana basale glomerulare ad epotocidi. Per tale motivo abbiamo soprattutto la proteinuria, quindi con delle proteine che vengono filtrate, però in questo caso abbiamo un eccesso di proteine perché non dovrebbero passare tutte le sostanze, diciamo proteiche, ma solo una parte, una piccola parte, il limite. E poi comunque il danno da sindrome nefrosica può essere o congenito o acquisito. Congenito spesso da un'infezione neonatale, congenito appunto per carattere genetico, quindi congenito significa che si manifestano a partire già dalla nascita, quindi nelle fasi appunto genetiche possiamo avere anomalie morfologiche o mutazioni proteiche. Poi possiamo avere anche una sindrome nefrosica con danno acquisito immunomediato per deposito di immunocomplessi che quindi vanno ad alterare la permeabilità capillare. Poi abbiamo altre sostanze e cause infettive però in questo caso post natali. Per quanto riguarda le complicanze, allora innanzitutto possiamo avere edemi, innanzitutto diciamo che le complicanze si hanno se la sindrome nefrosica non è trattata, poi possiamo avere edemi, quindi questo perché si riduce la pressione oncotica nel sangue e quindi abbiamo un aumento della quota di eliminazione proteica con le urine. Poi abbiamo iperlipidemia perché aumenterà la sintesi delle lipoproteine a livello epatico e avremo una perdita di proteine plasmatiche che trasportano lipidi, quindi abbiamo soprattutto un aumento della concentrazione dei trigliceridi ed in particolare del colesterolo. Poi abbiamo infezioni, la causa ovviamente da ricercare nella proteinuria, troveremo una riduzione della concentrazione delle immunoglobuline e delle opsonine nel plasma e possiamo anche riscontrare un aumento delle citochine e delle immunoglobuline che si depositano nel glomerulo, quindi queste possono peggiorare le situazioni instaurando un meccanismo a feedback positivo. Tra le altre complicanze abbiamo ipercoagulabilità perché c'è un deficit dell'antindrombina 3, quindi possiamo riscontrare le trombosi a livello cerebrale e soprattutto nei seni venosi, poi embolia polmonare oppure trombosi della penna renale, quindi ci sarà una compromissione della funzione di tarrenare, quindi la perfusione. Poi si può avere anemia perché si riduce l'eritropoglietina, ovviamente viene prodotta dal reno e quindi possiamo avere una ridotta eritropogliesi. Si può avere anche ipotiroidismo perché dalle urine possono essere perse gli ormoni tiro dei, quindi T3, T4, tiroglobulina con un aumento riflesso del TSH. Poi abbiamo anche ipocrescimento con perdita proteica, dovuto meglio alla perdita proteica, osteopenia, danno renale perché viene alterato ovviamente l'equilibrio della vitamina D e del paratormone, mentre gli adulti principalmente si manifesta l'osteoporosi. Il trattamento varia perché abbiamo una forma idiopatica e una forma secondaria. In quelle idiopatiche si fa una terapia di supporto, mentre quelle secondarie tratto la patologia responsabile. Per quanto riguarda invece le complicanze, si può fare una terapia per esempio con farmaci che trattano l'alterazione del sistema renin-angiotensin-aldosterone, per esempio andiamo a utilizzare dei farmaci che riducono l'ipertensione, quindi che riducono l'apporto di sodio, oppure per l'epidemia possiamo utilizzare delle statine, per il sovraccarico di liquidi diuretici e nei casi gravi possiamo fare l'anefrectomia monolaterale o traianto bilaterale. Per quanto invece riguarda, quindi dicevamo ci sono delle forme idiopatiche e congenite, per esempio in quelle idiopatiche abbiamo del 90% dei casi delle forme primarie e si distinguono tre istotipi. Abbiamo quella a lesione minime, quindi in cui si manifestano il 80% dei casi e poi abbiamo quella sclerosi flocare e la meningioproliferativa, la mesangio proliferativa. Questi tre stadi in realtà vengono considerati come tre stati, però nella realtà dei fatti se no andiamo a fare per esempio due biopsie è capace che ritroviamo prima una forma e poi l'altra, quindi per tale motivo c'è chi la considera in realtà un'evoluzione della patologia, quindi più che altro sono tre stati della stessa patologia. Per quanto riguarda invece nei maschi, principalmente da due o sei anni questa forma è più presente a seguito di un'infezione delle piaere alte e quindi tramite un meccanismo mediato vanno ad essere comunque, vanno intaccare le componenti renali. Il trattamento prevede per esempio l'utilizzo dei farmaci immunosuppressori steroidei che possono avere degli effetti collaterali soprattutto se somministrati a lungo termine, quindi come l'aumento del rischio delle infezioni, l'alterazione della mineralizzazione ossea, l'iperglicemia e l'iperinsulinemia o l'interferenza degli assi endocrini, mentre nelle forme cortico-resistenti abbiamo dei quadri istologici di ipercellularità e di sclerosi mesangiale. Per quanto riguarda invece la nefrosica congenita, in particolare abbiamo forme primarie e secondarie, primarie, vedete, sono tra cui la nefrosica congenita, però a queste forme appartengono la sclerosi mesangiale diffusa, le malattie lesioni minime, quella focale segmentale e la nefropatia membranosa, mentre quelle secondarie che colpiscono altre fasce d'età riguardano forme come la sifilide, la CMV, toxoplasmosi e via dicendo. Però per quanto riguarda appunto queste forme congenite, queste si manifestano solitamente entro i sei mesi di vita. Poi esiste tra le forme congenite una variante, che è una variante finlandese, che si manifesta entro tre mesi. E questa perlopiù è una condizione autonomica recessiva che non risponde agli immunosoppressori e si fa una terapia di supporto, soprattutto per ridurre le complicanze. Poi spesso si fa verso il trapianto in modo da avere un miglioramento. Nel bambino spesso le prospettive del trapianto ovviamente sono diverse. Il bambino si fa la diagnosi peritoneale, differentemente può dell'adulto. E poi la proniosi comunque dopo il trapianto spesso è positiva, salvo nei casi in cui ci sarà rigetto. Per quanto riguarda invece la sindrome nefritica, è un insieme di segni e sintomi che si manifestano sotto forma appunto di nefropatie. Anche in questo caso abbiamo immaturia, che ovviamente da sola non è sufficiente a fare diagnosi, quindi bisogna valutare se ci sono cause renali o extra renali. Poi la presenza di cilindri ematici, che sono di provenienza glomerulare, di massi provenienza glomerulare, ivertensione arteriose ed edema. Tra le zoologie abbiamo le glomerulonefriti, principalmente la fosta infettiva e la misaggio capillare, le vasculidi, la nefropatia di EGA e la sindrome di Good-Pasture. Dal punto di vista invece patogenetico abbiamo un'elevata cellularità del glomerulo che va quindi a limitare il flusso ematico glomerulare con una riduzione del filtrato. Troveremo quindi una ridotta di uresi e sovraccarico di volume, ipertensione arteriosa, edema, quindi all'inizio periorbitario, ematuria e protenuria. Il monitoraggio idroelettrolitico, l'utilizzo delle diuretici, rappresentano le strategie di trattamento. Raramente a seguito di una sindrome nefritica abbiamo un progiornamento della funzionalità renale. Questo può venire nel caso in cui abbiamo una glomerulonefrite rapidamente progressiva.